Buongiorno, anche oggi facciamo le risposte degli angeli. Pensate a una domanda e il libro vi risponde. Allora, è il numero 100. Allora, troverai di meglio. Sei sicuro di dover accettare a tutti i costi una situazione che forse non fa per te? Gli angeli credono che sarebbe meglio aspettare, in modo che un riepilogo di oggi non tenga lontano domani dal tuo vero obiettivo. Porta ancora un po' di pazienza, arriverà un'offerta migliore. Questo è il messaggio di oggi degli angeli. Vi auguro una buona giornata.